Bene amici, eccoci con tutte le novità più importanti della giornata. Spazieremo dal decreto sostegno, abbiamo la data e qualche informazione in più sui contenuti. Poi il nuovo obbligo da oggi, primo marzo, per i percettori del reddito di cittadinanza, la grandinata di cartelle fiscali, una novità IMSS che sarà addirittura retroattiva. Insomma, come sempre, un bel mappazzone ipervitaminizzato. Io sono Mr. Lul, sigla, ma mi raccomando lasciate un bel like per sostenere il video e il canale e iscrivetevi con la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Partiamo! Ed è proprio da oggi, primo marzo, che lo speed diventa ancora più essenziale per le nostre esistenze, per poter comunicare con la pubblica amministrazione, pagare tributi, bollette, controllare la nostra posizione previdenziale e fiscale, eccetera, eccetera. Ed è ancora più importante per i percettori di RDC tenuti alle condizionalità del patto per il lavoro firmato presso i centri per l'impiego. Infatti, come sapete, per accedere a MyAmpal serve o lo speed o la carta d'identità elettronica o il CNS. Mi raccomando! E poi, sempre da oggi, riprende l'invio delle notifiche dell'Agenzia delle Entrate e della riscossione. 50 milioni di atti finora sospesi con il MEF che pare lavorare ad una dilazione dell'invio e all'allungamento della prescrizione. Con novità, attese indovinate un po' dove? Beh, ovviamente nel decreto sostegno, per cui avrei in mente anche un altro nome che inizia sempre con la S, però meglio che taccia, non ve lo dico. Ma veniamo alla novità IMSS. Visto che, purtroppo, le previsioni pandemiche sono funeste e tante scuole di ogni ordine e grado si preparano a chiudere, beh, torneranno i congedi parentali speciali causa Covid con effetto retroattivo per i genitori lavoratori. E indovinate dove li troveremo? No, non nel decreto sostegno, ma secondo la bis ministra Bonetti, nel primo decreto in uscita che, presumibilmente, sarà il prossimo DPCM. Oh, e adesso facciamo un bel respiro e veniamo al decreto sostegno. Prima cosa sappiamo la data. Sarà approvato o venerdì o al più tardi lunedì prossimo. Non lo dico io, non lo dice un'indiscrezione giornalistica, ma lo dice direttamente il ministro Garavaglia. E in sovraimpressione potete vedere le sue dichiarazioni. Dichiarazione che ha rilasciato anche Franceschini in merito ai contenuti. Il ministro conferma che, nonostante appunto il cambio di nome, il decreto conterrà quei bonus o indennità onnicomprensive per le categorie colpite dalla crisi e nello specifico lui ha parlato per il settore di sua competenza, quindi i lavoratori dello spettacolo e, però, presumibilmente, anche le altre categorie storicamente incluse nei ristori. Ancora oggi, però, non sappiamo il dettaglio né degli importi. Sapete che si parlava di 3.000 euro e nemmeno il dettaglio di tutte le categorie incluse. I vari ministeri, però, sono al lavoro per questo taglia e cuci che possa confermare anche le altre attesissime misure, quelle di cui mi chiedete sempre, come REM, proroga della Naspi, il blocco dei licenziamenti. Diffidate, però, da chi vi dice o scrive in queste ore tutto confermato, perché purtroppo ancora non è così. Pare, invece, essere a buon punto il lavoro del ministro Orlando con le parti sociali e con l'Inps per riformare immediatamente la CIG e portare il pagamento a 30 giorni. L'ex ministro Catalfo, però, mette i puntini sulle i, le cose in chiaro e, come vedete, ieri sera con un post su Facebook si è, giustamente, dico anche attribuita parte del merito di questo lavoro alla ricerca di una riforma e velocizzazione interrotto bruscamente da Italia Viva. Regia, mi raccomando, non metta la foto di Renzi che poi nei commenti mi si lamentano. Per noi la cosa importante è che, indipendentemente dal merito di un ministro o dell'altro, l'incubo CIG finisca e, diciamocelo, vedere degli accrediti in 30 giorni sarebbe veramente una sorta di miracolo previdenziale. Detto questo, io, come al solito, vi saluto, vi ringrazio. Mi raccomando, lasciate un bel like per sostenere il video e il canale. Se avete dubbi vi aspetto qui sotto nei commenti. Un saluto a tutti. Grazie da Mr. Lul. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.